Scusate, è qui che si fa il caffè Osimè? Sì, si fa qui il caffè Osimè. Se vieni ti accompagno da Raffaele. Raffi, qui teniamo Teleclub Italia che vuole un caffè Osimè. Raffaele, che cos'è questo caffè Osimè? È un caffè molto semplice, con della panna al cioccolato e delle scaglie di cioccolato bianco con spray alimentare. Giallo, come i capelli del nostro bomber. Vediamolo. Il primo passaggio è un caffè espresso amaro, poi mettiamo della panna al cioccolato, poi mettiamo queste scaglie sopra di cioccolato bianco con dello spray commestibile, poi alla fine mettiamo questa maschera inconfondibile di Osimè, che è un'ostia che è sempre commestibile. Quindi è tutto molto buono e molto dolce. Com'è questo caffè? Buonissimo. Eccellente. Com'è venuta l'idea, innanzitutto? È venuta dalla torta che abbiamo visto su web, che è stata un successo per quella pasticceria. E niente, ci è venuta questa idea di fare questo caffè. La torta è stata consegnata al nostro campione, magari ci pensi anche al caffè? Spero, speriamo che venne consegnato anche questo caffè. Speriamo che poi si fosse tu. Sì, ma non ce n'è bisogno per il nostro bomber perché sta facendo un campionato assurdo. Non ha bisogno del mio caffè, anzi, siamo noi che abbiamo bisogno ancora di lui. I tifosi del Napoli che verranno a assaggiare questo caffè, dove lo troveranno? Alba Caffè, innanzitutto, che si trova a Casoria, zona Arpino, via Nazionale delle Puglie. Forza Napoli!